Musica Cari amici che seguite granmichele.eu, bentrovati con un nuovo approfondimento di granmichele.eu ospita. Oggi sono venuti qui a trovarci Natascia Palermo, presidente dell'associazione Trischele e Michele Ventura della federazione italiana Crav Maga di cui lui è il responsabile provinciale. Oggi sono qui per parlarci di un'iniziativa che si svolgerà il 25 novembre presso piazza Carlo Maria Carafa. Innanzitutto vi saluto, ciao Natascia, ciao Michele. Buongiorno. Allora, iniziamo a parlare del 25 novembre. Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Infatti in ogni parte del mondo si svolgono delle manifestazioni volte a sensibilizzare le comunità riguardante questo argomento estremamente delicato e che affligge le comunità nonostante ci troviamo nel 2018. Passando alla locandina che caratterizza quest'anno Gran Michele e l'associazione Trischele, notiamo che lo slogan è Gran Michele c'è perché esserci è importante. Natascia, in che modo Trischele ci sarà? Allora, intanto buongiorno a tutti e ben ritrovati perché ogni tanto ci ritroviamo qua per parlare assieme delle nostre iniziative. Trischele, nasce Trischele quest'anno, però noi proveniamo da una lunga esperienza e già da 9 anni di associazionismo con AIDE. Trischele è sempre presente nel territorio, abbiamo un po' cambiato, già ve l'ho spiegato, alcuni aspetti del nostro statuto, però non ci siamo e non ci scorderemo mai di quella della tutela delle donne. Il 25 novembre, come hai detto tu, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e Trischele tiene in modo particolare ad essere presente con una manifestazione che vuole sensibilizzare un po' tutta la popolazione per queste tematiche perché ogni qualvolta l'associazione è scesa in piazza abbiamo avuto subito dei riscontri perché qualche donna ha deciso di denunciare. Come noi siamo stati utili a queste donne? Siamo stati utili a queste donne perché attraverso il nostro psicologo Daniele Modica siamo riusciti a fare rete attraverso anche alcuni legali che ci hanno aiutato e quindi da lì poter far fare la denuncia alla vittima. Questo argomento deve essere ben chiaro a tutti nella mente che non è una tematica che succede solo nelle grandi città oppure non so neanche io dove lontano dalla nostra vita. Purtroppo la violenza domestica, la violenza psicologica, la violenza economica è presente anche nelle piccole comunità. Non a caso veniamo a conoscenza, poi magari le persone si stupiscono quando leggono gli articoli nel giornale, però vi posso garantire che Gran Michele non è un'isola felice e purtroppo moltissime donne subiscono violenza dentro soprattutto le mura domestiche. Quindi abbiamo sentito l'esigenza di commolgere quest'anno assieme a noi delle associazioni che sono sempre presenti sul territorio. Allora abbiamo noi da tanto tempo collaborato con Michele, Michele come detto ben tu è il presidente provinciale della Federazione Italiana Crav Maga quindi una disciplina per l'autodifesa personale e il mio auspicio è che proprio assieme a lui possiamo lanciare un messaggio che ogni donna facendo questo corso si possa difendere da quelle che sono le violenze sia domestiche che non domestiche perché non ci ricordiamo che comunque possiamo essere soggetti a violenza anche mentre andiamo al supermercato. Detto ciò domenica si svolgerà una manifestazione, non posso dare tanti dettagli perché sarà tutto molto improvvisato, saremo in piazza, spero che la gente venga sottolineo che non è uno spettacolo intendiamoci, è una commomerazione, è un momento di riflessione. Con noi collaborerà Carla Amato, quindi Grammy Music che la sera farà uno spettacolo non una di meno presso la Madonna di Lourdes dove l'ingresso è gratuito per tutti, proprio anche lei per sensibilizzare. Con lei noi abbiamo sempre collaborato perché abbiamo comunque lo stesso obiettivo quello di poter divulgare quello che è, noi siamo contro la violenza di genere e quindi divulghiamo in qualsiasi modo questo messaggio. Detto ciò, non so, facciamo parlare Michele? Sì, passiamo la parola appunto a Michele Ventura, appunto responsabile provinciale di Crab Maga. In che modo tu interverrai all'interno della manifestazione organizzata da Trischele? Buongiorno a tutti, intanto diciamo che la collaborazione con Trischele e Natascia è nata come ha detto lei già tre anni fa perché la federazione italiana Crab Maga che si occupa di difesa personale non è un'arte marziale, è sempre un contesto sportivo però molto vicina a tutte le forme di violenza che sono il bullismo e l'aggressione sulle donne. Quindi diciamo che siamo sempre presenti e sempre vicine alle associazioni su tutto il territorio nazionale siciliano e io mi trovo a Gran Michele per dare una mano e aiutare le persone che si avvicinano a noi per difendersi e sapersi difendere o almeno avere la consapevolezza di poter fare qualcosa. E aumentare così l'autostima. Detta così sembrerebbe una disciplina prettamente femminile ma difesa personale ai tuoi costi partecipano pure uomini? Sì praticamente il Crab Maga quindi la difesa personale è aperta a tutti, ai ragazzi, agli uomini, alle donne e alle ragazze perché comunque non è un contesto sportivo che ci vuole una fisicità o un'atleticità molto importante ma con poco si riesce a difendere da quello che è un'aggressione reale. Io faccio sempre un paragone e lo dico spesso. L'arte marziale si prepara in palestra e si ha lo scopo poi di andare sul ringo, andare in un'area di combattimento e combattere quindi mentalmente e fisicamente si prepara a questo. La difesa personale invece non si prepara perché l'aggressione non avviene in maniera preparata, non ti avvisa la persona vedi che ti sto aggredendo, la persona viene aggredita e quindi al momento dell'aggressione se si riesce a dare una pronta reazione, una pronta difesa all'aggressione che si sta subendo ci si salva la vita. Possibilmente anche in questo caso le aggressioni arrivano da persone che meno ce lo aspettiamo, che non dovrebbero arrivare ma purtroppo arrivano e quindi sapersi difendere in quel caso è molto molto importante. Questa disciplina rappresenta una via di vento tra una difesa personale ma è anche un'attività prettamente sportiva. Io però volevo chiederti, ma è vero siamo in una piccola comunità, come ha detto appunto Natascia, Gran Michele non è un'isola felice, ma ti è capitato che si siano accostate delle donne a questa disciplina proprio perché avevano paura e quindi attraverso questa disciplina sbloccarsi per riuscire a autoproteggersi? Diciamo che personalmente non mi è capitato un caso del genere perché comunque siamo in una piccola realtà quindi molte volte si ha la paura e si ha l'imbarazzo e la vergogna di vorrei esternare i propri problemi che abbiamo anche come nel bullismo, che trattiamo il bullismo nelle scuole perché ci conosciamo tutti, perché quindi diciamo che non è facile che una persona si apre e ti viene e ti dice quel problema. Però siamo presenti e quindi siamo lì per questo. Le donne possono sapere divenire? Sì, aiutare naturalmente le associazioni come Trischele, le altre associazioni, la palestra Benefit che ha da tre anni, che appoggia i corsi, è molto importante far sapere che comunque ci siamo e chi vuole imparare a difendersi in un contesto urbano, cittadino a 360 gradi può venire e può provare i nostri corsi. Natascia, l'appello del 25 novembre di quest'anno qual è? Allora, cara Marianna, noi da tantissimo tempo che collaboriamo, ci conosciamo, voi sapete quanto io tengo a Gran Michele, ai cittadini di Gran Michele e alle donne di Gran Michele. Il mio appello è quello di cercare di essere coinvolti. Coinvolti in che senso? Non pensate sempre che siano sciocchezze oppure ah, l'associazione, va bene, cose così. Invece dietro a queste manifestazioni vi posso garantire che c'è sempre il risvolto della medaglia. Non a caso ogni qualvolta noi facciamo questo, una donna cerca un contatto e grazie alla nostra sensibilità, ma anche a persone formate, cerchiamo di aiutarle. Quindi quando una donna si troverà in piazza magari che subisce violenza e vede che c'è una rete, e ci sono delle persone pronte ad aiutarla, sicuramente non si sentirà da sola. E quindi potrà avere quel coraggio che vi posso garantire, ce ne vuole tanto coraggio, per poter fare una denuncia, soprattutto quando si parla di un marito, di un fidanzato e via dicendo. Io spero che domenica faccia un appello a tutti i nostri compaesani, ci possa essere tanta gente che viene, viene a sostenere quelle che sono le donne che in questo momento, anche adesso, possibilmente sono a casa e hanno veramente seri problemi. Stiamo avendo un momento molto difficile in tutti i sensi, quindi capisco bene che laddove c'è anche una disperazione ci può essere un abuso di violenza ancora di più. Quindi io mi auguro che Gran Michele ogni tanto, devo essere onesta, ci sono sempre state tantissime persone alle nostre manifestazioni, però vi chiedo uno sforzo ulteriore, lo so che è la domenica, però essere presenti in piazza darà semplicemente un input in più a qualcuno che ha bisogno di essere aiutato. Quindi Trischele vuole essere sempre presente, anche solo per un messaggio. Una cosa importante, noi saremo presenti anche al liceo artistico il 27 di novembre, proprio per questa tematica faremo una conferenza, lo facciamo ogni anno, abbiamo sempre trovato le porte aperte in questo istituto e devo dire che ci gratifica ogni qualvolta noi andiamo perché troviamo veramente dei ragazzi attenti. Quindi anche lì vorrei lanciare un messaggio, quello che è parlare di queste tematiche, anche i giovanissimi fa bene, fa bene perché se loro capiscono che nel contesto familiare in cui abitano ci sono dei problemi e delle violenze, sicuramente saranno da tramite per far sì che chi subisce violenza venga a fare la denuncia. Quindi altrettanto sì per il bullismo, perché noi dobbiamo sempre avere un filo conduttore che noi siamo no alla violenza, comunque sia, quindi violenza di genere, violenza di bullismo, tutti i tipi di violenza, quindi partiamo da qui ma abbracciamo tutto quello che è dire no alla violenza. Ovviamente potremmo parlare da qui a domani mattina di quelle che sono le prime avvisaglie, lo faremo, daremo delle informazioni, quindi se siete presenti ci farà onore e piacere avervi. Allora, rinnoviamo quindi l'invito il 25 novembre, piazza Carlo Maria Caraffa, a partire da… Dalle 11 perché aspettiamo che finisca la messa e quindi a partire dalle 11. A partire dalle 11 troverete questa manifestazione, volta appunto sensibilizzare la comunità, comunità che deve essere appunto presente perché Gran Michele c'è ed è importante appunto esserci, organizzata dall'associazione Trischele, abbiamo qui appunto, abbiamo avuto Natascia Palermo e da Krav Maga di Michele appunto Ventura, grazie di essere stati qui con noi, grazie appunto di aver affrontato questo argomento un po' appunto delicato, ringrazio tutti coloro che ci seguono e vi do appuntamento prestissimo con un nuovo approfondimento di granmichele.eu ospita. Grazie a tutti!